Dopo la nuova stretta della Banca Centrale Europea che vuole tornare alla normalizzazione, i soldi che le banche ci prestano costano di più e per le nostre tasche l'impatto è abbastanza importante. Probabilmente la Banca Centrale Europea rialzerà ancora i tassi di interesse, con effetti immediati sulle famiglie che hanno un debito nei confronti degli istituti bancari, in base ai dati circa 4 su 10 e di queste almeno la metà ha un mutuo per comprarsi una casa. Per quanto riguarda i nuovi mutui, quelli a tasso fisso sono passati da un interesse medio di circa l'1,8% fino ad oltre il 4%, quindi le rate che paghiamo ogni mese sono persino raddoppiate. I nuovi mutui a tasso variabile sono arrivati al 2,8% dallo 0,6% di fine 2021. Questo vuol dire che per un prestito da 150.000 euro per 20 anni la rata mensile oggi è di 825 euro e cioè 160 euro in più rispetto a quella che si sarebbe ottenuta un anno fa. Quanto ai vecchi mutui invece, nessuna differenza per quelli a tasso fisso, mentre le rate di quelli a tasso variabile sono aumentate di oltre il 40%. In soldoni, chi pagava una rata di circa 500 euro al mese, oggi la stessa rata è di 715 euro. Stesso discorso per i finanziamenti al consumo. A fine 2021 il tasso di interesse medio era dell'8,1%, oggi arriva a toccare punte del 10,9%. Facciamo un esempio. Per comprare una macchina da 25.000 euro tutta a rate con un finanziamento per 10 anni il costo totale passa da 37.426 euro a 42.272 euro. La differenza è di quasi 5.000 euro in più. Mentre per comprare ad esempio una lavatrice da 750 euro tutta a rate con un finanziamento per 5 anni il costo totale passa da 942 euro a 1.012 euro e la differenza è di circa 70 euro.